Fino al 18 febbraio 2014 gli studenti delle scuole medie e superiori possano partecipare alla seconda edizione del concorso Cultura della Legalità e dell'Uso Responsabile del Denaro, bandito dall'Osservatorio Regionale sull'Usura in collaborazione con Regione e Ufficio Scolastico del Piemonte. Per aiutare i ragazzi nella partecipazione al concorso, l'Osservatorio Usura organizza per le scuole che gli richiedono alcuni incontri di preparazione e approfondimento. Siamo convinti e determinate di parlare in particolare ai giovani sull'uso consapevole del denaro. Dietro il gioco d'azzardo purtroppo vi è l'usura, un fenomeno molto sentito nella nostra regione e che coinvolge anche i giovani e le loro famiglie. Questo uso consapevole del denaro deve essere la responsabilità perché i nostri giovani sono il nostro futuro, il nostro domani.